E' stata ancora una volta la suggestiva pieve di Santa Maria ad ospitare nel nome di Giuseppe, concerto in memoria di Giuseppe Tresca organizzato come sempre dalla moglie Rosanna. Ogni anno un momento di ricordo portato ancora una volta a tutta la città con tanti artisti e soprattutto tante giovani promesse. Un amico che amava i giovani, amava la grande musica e noi abbiamo portato tanti giovani, sentite gli applausi. Un cuore di mani bianche che ritrovano la loro serenità cantando, che stanno passando tra noi adesso. E poi altro cuore, gospel, poi tanti solisti, un compositore. E questo per quale motivo? Perché in nome di Giuseppe è un bellissimo concerto, un bellissimo contenitore per tutti. E perché si ha nel ricordo di una persona, in modo che i giovani possano vivere di ideali, di musica. E poi in questo periodo, proprio perché anticipa e ci accompagna verso le feste del Natale, che sia un bel modo anche per vivere il Natale serenamente con della buona musica e dare la possibilità a tanti giovani di potersi vivere. Grazie. 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 Grazie.